9.000 guanti e 500 mascherine FFP2. È questa la donazione fatta alla ASD di Oristano dall'Associazione SLA Unisola nell'Isola, nell'ambito dell'iniziativa Stringimi, un progetto musicale che ha avuto come protagonisti diversi artisti, testimonial di una raccolta fondi mirata a sostenere le strutture sanitarie nel corso dell'emergenza Covid-19. Ringraziamo di cuore l'Associazione Unisola nell'Isola e tutti gli artisti che, con un gesto di grande generosità, si sono messi a disposizione di questa causa, oltre che tutti i cittadini che hanno contribuito con una donazione, hanno dichiarato i rappresentanti dell'azienda sanitaria. L'emergenza non è ancora finita, non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo dimenticare il lavoro, faticoso e costante, dei nostri operatori sanitari impegnati oggi sul fronte della cura, dei tracciamenti e della vaccinazione. Progetti come questo ci fanno sentire la vicinanza e la solidarietà da parte della collettività. Un progetto dal quale è nata l'idea di coinvolgere diversi artisti per realizzare un video musicale mirato alla promozione della raccolta fondi. La band La Canusie, Marco Ligabue, Gino Marieli d'Eta Zenda, Benito Urgu, Silvano Michetti, De Cugini Campagna, Nicola Cancedda, Ita Olaresti, Federico Leonardi, Carla Nedda e Laura Spano, sono i volti e le voci che sulle note di Stringimi hanno lanciato un messaggio di speranza nei mesi più bui della pandemia.